Un appuntamento importante, un appuntamento veramente creato con le forze in poco tempo dell'associazione dell'Hockey Club, di Imperia e dello Judo che io chiaramente collaboro e insomma abbiamo già in passato avuto anche diverse soddisfazioni a Imperia, ricordiamo l'anno scorso che abbiamo avuto la possibilità di avere Marco Basile a Imperia, quest'anno ci sarà chiaramente in seguito anche un altro appuntamento al Palazzo dello Sport ma quest'oggi si è parlato di un evento creato apposta, un Open Day di Judo, di arti marziali, creato in collaborazione con la Filca e con la Warner Bros che ha selezionato 100 associazioni sportive della quale appunto l'onore di avere un'associazione sportiva dello Jockey Club di Imperia per la realizzazione di un Open Day di arti marziali, quindi una serie di video che verranno poi pubblicati anche dalla Casa Cinematografica e avere la possibilità di far conoscere questi sport e veramente la natura delle arti marziali in generale, pertanto una sorta di gioco per i ragazzi più giovani, per i bambini però chiaramente è un'attività che si avvicina sempre al mondo delle arti marziali e che viene portata appunto nella nostra città, questo ci dà un grosso lustro, un grosso rilievo poiché il nome di Imperia viene portato appunto in video nazionale e quindi viene caratterizzato dal punto di vista sportivo, ci è stata chiesta la disponibilità credo come sempre che il mio settore, quindi in questo caso l'assessorato dello sport e si deve dare piena disponibilità a quello che è la richiesta di un'associazione sportiva che tende a portare a livelli nazionali e non solo il nome della nostra città con la disponibilità del palazzetto dello sport.